bene siamo qui buongiorno a tutti intanto grazie a chi è collegato alla stampa presente siamo qui perché credo che i risultati che stiamo ottenendo per quel che riguarda lo sviluppo delle attività legate alla nuova normativa urbanistica e al piano casa sono iniziative non solo positive ma occorre anche farle conoscere tant'è che premetto subito che proprio oggi partirà una lettera da parte del nostro assessorato rivolta a tutti i comuni della regione Marche per portarli con esattezza conoscenza di quanto siamo riusciti diciamo a portare avanti finora quindi mettiamo in condizione i comuni di proseguire con il piano casa voi vi ricorderete questo lo voglio dire molto brevemente non tanto solo per polemica ma per precisazione quanto in quei tre giorni di discussione in consiglio regionale tra i tanti emendamenti la ripetività come si dice degli interventi portati avanti da diversi esponenti dell'opposizione che continuamente ci dicevano che questa legge sarebbe stata impugnata non approvata diciamo dal consiglio dei ministri e ancora di più che non avremo mai raggiunto l'accordo col ministero della cultura per quel che riguardava il prossimo piano casa eccetera bene non solo la legge non è stata impugnata dal consiglio dei ministri ma nel giro di poche settimane abbiamo portato anche a compimento l'accordo così come era auspicato e come io come noi avevamo annunciato proprio durante la discussione del consiglio regionale anche dell'accordo col ministero della cultura per proseguire le attività legate al piano casa oggi noi possiamo dire che la regione marche insieme all'emilia romagna che ha una legge ad hoc già approvata dal 2017 è l'unica regione italiana che non ha avuto soluzioni di continuità nell'applicare il piano casa perché noi ci è stato impugnato a inizio 2023 ma siamo riusciti a farcelo prorogare per un anno tutto il 2023 appunto con l'impegno nel frattempo di approvare la nuova normativa urbanistica questo abbiamo mantenuto fede siamo riusciti a portarlo avanti e oggi abbiamo anche proprio appunto l'accordo firmato col ministero della cultura cosa varia rispetto al passato allora il piano casa si può eccezionalmente quindi in deroga portarlo avanti in tutto il territorio della regione marche in tutti i comuni dove si sia un piano regolatore ma mi pare che ci siano un paio di comuni tutta la regione maria che non hanno il piano regolatori su questo non possiamo ovviamente intervenire non si prevedono più ampiamente fino al 40 per cento perché noi siamo in deroga per il periodo finché i comuni non approveranno i nuovi piani urbani generali i loro puggo i nuovi piani regolatori per capirci nei quali poi potranno ricepire le attività legate al piano casa riportarle anche percentuali più alte l'emilia romagna il 30 per cento ad esempio di ampliamento prima il piano casa prevedeva fino al 40 oggi in questo periodo transitorio noi prevediamo in accordo con il ministero fino a un massimo del 20 per cento conseguentemente il piano di casa fino a un massimo di ampliamento del 20 per cento si possono realizzare in tutti i territori della regione marche facendo salvi ovviamente i centri storici dove non si può applicare ed attenzionando con alcune attività tecniche poi magari l'architetto però ci può spiegare le aree e le aree b cioè quella ridosso dei centri storici e quelle agricole dove si può effettuare il piano casa con alcuni accorgimenti con alcuni accorgimenti di attenzione che il ministero ci ha richiesto quindi ecco siamo qui ad annunciare questo la procedura in parte cambia a me molto semplice perché comunque i piani case vengono approvati per pubblica utilità quindi basta un miglioramento sismico o un miglioramento di efficientamento energetico o un miglioramento di risparmio idrico o di stessa igienicità dell'immobile quando c'è una miglioria si fa una ristrutturazione vuol dire che la miglioria c'è per forza altrimenti non lo faremmo nel momento che c'è una miglioria quindi un efficientamento il piano casa viene approvato il passaggio però deve essere diciamo così in qualche modo certificato dal consiglio comunale quindi non vuol dire che c'è una variante non vuol dire che ci saranno le osservazioni c'è un po' una presa d'atto c'è un atto che prima veniva rilasciato dagli uffici oggi viene lasciato dagli uffici e viene diciamo così approvato in consiglio comunale noi prevediamo anche proprio nella norma che i consigli comunali possono anche accorpare vari interventi tipo fare un bando semestrale che intende fare il piano casa in quei sei mesi e poi con un unico atto di consiglio comunale si approvano tutti i piani che nel frattempo possono essere arrivati questi poi saranno i comuni che si regoleranno anche a secondo delle loro esigenze a secondo delle attività che gli verranno che gli verranno richieste quindi questo è un momento molto importante perché ripeto e chiudo grazie alla nuova legge urbanistica così come noi avevamo del resto previsto e anche reso pubblico le marche potranno continuare a fruire del piano casa questo è per la nostra economia per le attività legate al territorio quella del miglioramento e l'efficientamento energetico di quanto è già costruito la nostra regione credo che sia di particolare importanza per l'economia per lo sviluppo e per la socialità e anche per l'ambiente quindi una grande vittoria di questa amministrazione che dopo tanti anni non solo porta a caso una nuova legge urbanistica ma mantiene anche degli adempimenti che erano indubbiamente utili e preziosi per tutti i cittadini accorgimenti appunto per le zone agricole allora buongiorno dunque l'accordo è stato condiviso e sottoscritto tra il presidente della regione marche la direzione generale della del ministero della cultura di roma e il segretariato regionale per le marche l'accordo si compone di sei articoli e diciamo la struttura è una struttura classica di un accordo ma il cuore del testo è l'articolo 3 che disciplina l'applicazione dell'accordo stesso come anticipava l'assessore i criteri per verificare l'attuabilità degli interventi in deroga si applicano esclusivamente nelle zone B ed E ciò significa che su tutto il resto del territorio escluso il centro storico che ovviamente non può essere attenzionato da questi interventi in deroga si può applicare senza limiti diciamo e condizioni i criteri previsti dall'accordo riguardano appunto le zone B dove gli interventi di riqualificazione dell'edificato ora si chiamano così sarebbero questi in deroga al piano regolatore non si applicano agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali del paesaggio negli edifici presenti nella cartografia IGM storica del 1892-1895 edifici censiti dal SIRPAC che è il sistema informativo regionale del patrimonio culturale o presenti nella legato 2 alle NTA del PPR poi non si applica agli immobili compresi nelle zone urbanizzate situate all'interno dei perimetri degli ambiti provvisori di tutela integrale dei centri e nuclei storici di cui all'articolo 39 delle NTA del PPR e negli immobili compresi nelle zone urbanizzate situate all'interno dei perimetri degli ambiti provvisori di tutela. Nelle zone E in aggiunta alle categorie che ho già menzionato non si possono applicare negli edifici presenti nel censimento dei fabbricati rurali esistenti. Resta a discrezione delle valutazioni della commissione locale del paesaggio comunale che è l'organo che valuta la compatibilità degli interventi la valutazione appunto se ammettere a riqualificazione edilizia gli interventi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica, quelle ai sensi della parte terza del codice e per gli edifici ricadenti all'interno delle aree urbanizzate al 1954. Per supportare i comuni e gli enti che i professionisti per la presentazione delle pratiche è stato creato ad hoc un web GIS che adesso proiettiamo nel quale appunto a livello cartografico alla scala 1 a 10.000 sono individuati questi tematismi cioè gli edifici censiti dal SIRPAC, gli edifici di cui ha l'allegato 2 delle NTA del PPAR, gli edifici diciamo presenti nelle cartografie storiche dell'Igm e le aree urbanizzate al 1954. Quindi questo è il sistema informativo per immediatamente avere l'accessibilità alla presenza o meno di vincoli storici preesistenti. Noi faremo appunto come diceva l'assessore una nota in cui comunque a tutti i comuni daremo tra virgolette le istruzioni per l'uso e anche informazioni per scaricare sia il web GIS sia il manuale per il suo utilizzo. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore, il presidente e l'architetto Borocci. Io come presidente di commissione ci tengo a ringraziare Andrea Assenti che è stato relatore di maggioranza, l'ha già detto prima l'assessore Aguzzi è stato un lavoro molto lungo quello della legge urbanistica, la legge 19 del 2023. Abbiamo fatto tantissime audizioni, alla fine è uscito un testo condiviso veramente con tutti perché abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di tutte le varie categorie e nonostante l'opposizione ci ha sempre denigrato e aveva detto che questo atto sarebbe stato impugnato, che non sarebbe stato appunto, non avrebbe preso forma, oggi invece è un giorno molto importante. Io ci tengo a ringraziare la struttura perché ci sono veramente tantissimi tecnici, tantissime aziende, tantissime famiglie che attendevano questo accordo con il MIC, quindi questo accordo permette nella regione Marche di mantenere l'ex piano caso oggi ampliamento in deroga fino al 20%, è un risultato non scontato, l'ha detto prima a poc'anzi l'assessore Aguzzi, io dico che oggi è una giornata storica perché le aziende, le famiglie della nostra regione Marche, se vogliono continuare a costruire sul costruito e ampliare la propria attività o la propria casa, nella maggior parte dei casi, tranne quando naturalmente ci sono le tutele storico-artistiche, architettoniche che ha citato poco fa l'architetto Borocci, questo si potrà continuare a fare. Un risultato veramente difficile ma che con perseveranza e costanza sia la struttura che la politica, quindi la nostra amministrazione è riuscita a portare a casa. Grazie. Buongiorno a tutti, anch'io innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti anche al Presidente di Commissione, al Consigliere Andrea Assenti, ma in maniera particolare all'assessore Aguzzi e a tutta la struttura e devo dire anche al Ministero che con questo confronto ci consente di poter continuare ad usufruire di uno strumento comunque importante che in questi anni è stato ritenuto ormai un elemento strutturale delle politiche urbanistiche del nostro territorio nazionale. La nostra regione con questo risultato ottiene un grandissimo risultato, ridimensionato ma un grande risultato ugualmente perché poi soprattutto nella fase della ristrutturazione questa percentuale è una percentuale che dà in realtà una miriade di soluzioni che tecnicamente sono fondamentali per il territorio, per il paesaggio e per anche il cliente, l'utente finale che ha bisogno di poter usufruire di questo strumento per raggiungere il miglior risultato possibile. A questo aggiungo la complessità della legge del governo del territorio, una complessità che è stata affrontata in un tempo giusto e che oggi ci consegna una legge che non è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri, una legge base su cui lavorare, noi non ci siamo mai nascosti rispetto anche a una revisione possibile se dovessero emergere delle criticità nel percorso del cambio della legge attuale con la nuova legge, abbiamo scelto di dare un tempo anche medio, lungo per non creare traumi e incertezze sul territorio, oggi io mi permetto di dire che però queste azioni lasciano un segno importante perché danno alla Regione Marche complessivamente una visione che tende a consentire lo sviluppo ma anche a valorizzare il paesaggio, il territorio e finalmente dare anche uno strumento alle amministrazioni locali che rappresentino una visione complessiva. Può sembrare banale però tutto questo è stato il frutto di una volontà e qui voglio ringraziare anche tutta la maggioranza che per giorni è stata in aula a lavorare, a votare, a difendere questa iniziativa e credo che veramente sia stato fatto un ottimo lavoro nella consapevolezza che ogni ottimo lavoro può essere migliorato restiamo aperti a tutte quelle che sono le interlocuzioni con gli ordini professionali, con gli enti perché una legge come questa può aprirci dei file continuamente. Però ecco è un grande lavoro, nella nostra Regione mancava questa legge da oltre 30 anni, era necessaria, era fondamentale e questo ci consente stiamo in attesa del nuovo piano paesaggistico regionale che è un altro strumento fondamentale per alleggerire la burocrazia, per snellire le procedure, per dare maggiore certezza ai nostri cittadini, ai nostri imprenditori, a tutti i marchigiani sotto il punto di vista chiaramente delle politiche urbanistiche. Ecco io credo che in un territorio pesantemente colpito a sud dal sisma al nord degli alluvioni del 2022 avere strumenti all'avanguardia consente anche di poter lavorare forte sulla valorizzazione del patrimonio più grande che abbiamo e quello del paesaggio e del territorio. Quindi veramente grazie a tutti, in maniera particolare mi sento di ringraziare l'assessore Aguzzi per l'enorme sforzo che sta facendo perché questa legge coincide poi col piano paesaggistico regionale, con la protezione civile e con tutte quelle che sono le riforme che stiamo cercando di portare a termine e che auspico, come lui sa bene, ma ci stiamo lavorando nell'anno del 2024 di vedere tutte approvate dal Consiglio regionale. Grazie e se non ci sono domande buona prosecuzione di giornale.